Bonus affitto pubblicato l'elenco dei beneficiari, dice l'assessore alla regione Falcone, misura di dignità. Parla di segnale concreto della vicinanza della regione a tutti coloro che devono far fronte a un affitto nel pieno di una crisi economica con pochi precedenti. Sarebbero oltre 6.000 i beneficiari del bonus affitto della regione siciliana. I primi assegni saranno erogati a partire da luglio. Una misura di dignità sociale, sottolinea ancora l'assessore regionale. Dalla pubblicazione dell'elenco dopo 20 giorni sarà avviata la liquidazione dei contributi in tutte le province. Il Dipartimento regionale Infrastrutture aveva emanato il bando che aveva come termine di presentazione delle richieste il 21 aprile per assegnare il bonus affitto, cioè risorse previste dalla legge 431-1998 sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Il parametro di sbarramento è l'ISE fino a 15.000 euro per le fasce A e B. Prevista anche una fascia Covid di aiuti per chi ha subito i contraccolpi della crisi e istanze fuori fascia con ISE fino a 35.000 euro. Aiuti per una somma complessiva che ammonta a 13.119.000 euro. Il tetto massimo di bonus erogato è di 3.098 euro.